Continua a diminuire il tasso di incidenza di casi di Covid-19 nel nostro Paese e questa settimana l'incidenza si fissa a 52 casi per 100.000 abitanti. Per quanto riguarda l'RT invece vediamo una lieve tendenza all'aumento, siamo a 0,73, però ben al di sotto della soglia epidemica. Il tasso di occupazione dei posti di area medica e di terapia intensiva è rispettivamente al 5,4% e all'1,6%, quindi notiamo ancora una tendenza alla flessione e quindi ad una ulteriore decongestione delle strutture sanitarie. Quindi tutti gli indicatori mostrano ancora un'evoluzione positiva e la situazione appare a essere al momento sotto controllo.